Il prodigioso pittore milanese Giuseppe Arcimboldi viene chiamato per le sue formidabili virtù alla corte imperiale degli Asburgo. Prima a Viena, poi a Praga. A Viena esegue una serie di dipinti raffigurati, le quattro stagioni e i quattro elementi. Uno dei più belli è l'estate. È composto con i prodotti dell'estate, così come le altre stagioni sono composte con i prodotti delle relative stagioni. È un divertimento vedere il procedimento con cui Arcimboldi è arrivato a questo. Un gioco supremo dell'intelligenza e dell'abilità tecnica, al punto che bisogna sforzarsi per decifrare la firma e la data. Osservando bene si vede sul colletto, composto di paglia, c'è scritto Giuseppe Arcimboldo e sulla manica la data, 1563. Un prodigio dell'arte, uno stimolo dell'intelligenza e un consiglio per tutti noi. Guardare un'opera d'arte vuol dire scrutarla, ispezionare.